Cosa potrebbe spingere un genitore all'orlo del baratro, tanto da causare un'immane tragedia familiare? Scopriamo insieme la storia dietro le quinte di una famiglia che sembrava perfettamente normale dall'esterno. Nel nostro speciale reportage di oggi vi porteremo all'interno di questa storia di ordinaria follia, rivelando i dettagli e gli sviluppi di un caso che ha sconvolto una comunità. Prima di immergerci in questa drammatica vicenda, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace. Oggi affronteremo una storia che ha scosso una piccola comunità in Russia. A Jaroslavl il cuore di una famiglia è stato spezzato da un atto inimmaginabile. Jaroslav Olejnik, padre di famiglia, è stato accusato di aver strangolato la propria figlia di soli sei anni con il suo giocattolo preferito. Questo gesto ha lasciato una comunità intera in lutto e ha sollevato interrogativi profondi sulla sicurezza domestica e la salute mentale. Sei mesi dopo l'omicidio della piccola, la madre, Anna, devastata dal dolore e colpita da un'infezione virale, ha scelto di non curarsi, lasciandosi morire. La perdita dei diritti sul suo altro figlio, Ivan, che è stato messo in un orfanotrofio, ha rappresentato il colpo finale per una donna che aveva sempre sognato una famiglia felice. Nonostante i vicini descrivessero la famiglia come normale e senza particolari problemi, la realtà di ciò che avveniva dietro porte chiuse era molto diversa. La bambina non frequentava l'asilo e mostrava ritardi nel parlare, segni di un isolamento che nessuno aveva investigato a fondo. Vi invito a commentare qui sotto. Come credete che potremmo migliorare la sicurezza dei bambini nelle loro case, la vostra opinione è preziosa. Jaroslav Olejnik si è dichiarato colpevole e ora rischia fino a 20 anni di carcere. La sua confessione apre una riflessione su come il sistema giudiziario possa non solo punire, ma anche prevenire tragedie future attraverso l'intervento precoce e il supporto alle famiglie in crisi. La comunità di Jaroslav è stata profondamente segnata da questa tragedia. In risposta sono stati proposti nuovi programmi di supporto psicologico per le famiglie e maggiori controlli nel monitoraggio del benessere dei bambini. Questa storia ci lascia con molte domande sulla responsabilità sociale e l'importanza del supporto comunitario. La tragedia di Anna e della sua famiglia ci ricorda che dietro la facciata di normalità possono nascondersi realtà molto dolorose. Non dimenticate di iscrivervi a notizie live stream per non perdere altre indagini approfondite e reportage sensibili come questo. Lasciate un mi piace se avete trovato questo video informativo e condividetelo per sensibilizzare sul tema. Grazie per averci seguito. A presto!